Buongiorno a tutti, per me il conto di un'intera storia, sessant'ultimo, rinanziato, di un'intera storia, e questa è l'associazione di libera natura, sessant'ultimo. Compass, gruppo Mediovanca, 10.000 euro a soli 90 euro al mese, chiamato 107-744-33, Compass, diamo forza ai tuoi progetti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salute, Vanessa, Vanessa! Ciao! Ciao! Tutte le stelle della tv, l'oroscopo di Paolo Fox, tv mia.